Grazie a tutti. A settembre è il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e territoriale di Treviso, quello che una volta veniva chiamato il provveditorato agli studi. Lo ringrazio infinitamente di essere presente e ringrazio anche per il sostegno che ha dato alla nostra iniziativa. Signore e signori buongiorno, buongiorno anche ai ragazzi qui presenti, vedo numerosissimi, una cosa mi rallegra molto. Ringrazio io il dirigente scolastico dell'Alberini, il professor Lorenzo, che ha voluto invitarmi qui e rendermi partecipe di questa iniziativa che ritengo molto importante. Prima di due parole così di augurio a questa iniziativa e lasciare spazio ai relatori. Permettetemi però di collegarmi a una boutade del preste Lorenzo, che ha trovato divertente. Passare dal dono dell'ubiquità al dono dell'obliquità può essere vista come una decadence, però potremmo anche interpretarla come un cambiamento nella cultura dei nostri politici che passano da una cultura umanistica a una cultura più fisica, perché l'unico modo per andare più veloce della luce è andare in maniera obliqua e non retta, in qualche maniera curvando il tempo. Quindi probabilmente questo ha una preparazione più di tipo fisico-scientifico che umanistico. Però questo, andando adesso al nostro convegno, che è un festival, a me sembra che questa iniziativa dell'Alberini invece abbia una dimensione di classicità molto forte, che si legge ovviamente già dal titolo del festival, Kalos e Gotha, insomma che sono due termini, uno greco e uno tedesco, che sono secondo la tradizione l'inizio e il termine della comprensione della classicità. Io vorrei soffermarmi prevalentemente sul rapporto tra questa iniziativa e la scuola. E su questo vorrei fare tre piccolissime osservazioni. Il primo, sul valore della proposta, l'ha accennato in qualche modo il preste in maniera un po' sommessa, direi, il dirigente Lorenzo. Qui non ci troviamo di fronte a un semplice convegno. L'idea della scuola è quella della promozione dell'inizio di qualcosa, un festival. Però un festival generalmente non è qualcosa gestito da un'istituzione scolastica. Tradizionalmente i festival vengono gestiti da... L'istituzione scolastica è una comunità importante, che ha un riconoscimento anche a livello costituzionale, però ovviamente è molto impegnativo gestire un festival. Generalmente vengono gestiti dagli enti locali. Allora, qui a me sembra che un istituto della provincia di Treviso, lanci un'idea molto interessante, cioè l'idea che questa provincia, magari il comune di Treviso in primis e poi l'amministrazione provinciale, possa prendere il testimone dalla scuola, collaborare con la scuola per allargare questa iniziativa e portarla a un'iniziativa che può essere caratterizzante Treviso. E c'è indubbiamente dell'ambizione in questo, perché Treviso in questo modo verrebbe caratterizzata anche da qualcosa di così importante, di così significativo come la bellezza. Ecco, una seconda osservazione è che con questa iniziativa una scuola come l'alberghiero dimostra che si possono organizzare eventi culturali che, visto il modo che questo evento è organizzato, non una serie semplice di conferenze, ma anche un workshop, un rapporto diretto con gli operatori del settore, quindi un evento culturale che può avere in prospettiva anche importanti ricadute economiche se queste vengono ovviamente raccolte dall'ente locale, come dicevo prima. Quindi la seconda osservazione si collega alla prima. La terza osservazione, ecco, la prima dice che c'è una scuola che promuove, da lei un impulso. La seconda dice che questo impulso può avere, è un impulso culturale, anche una ricaduta economica. La terza è che non è una scuola qualsiasi che fa questo, ma è l'alberghiero. Il professor Lorenzo ha detto prima che queste iniziative sono sorte per dare un po' di pubblicità alla nostra scuola che non venisse semplicemente confusa con l'alberghiero tradizionale della provincia di Treviso. Però qui abbiamo un alberghiero che è indubbiamente in forte crescita, è stato sostenuto anche dalla provincia con una bella sede fatta di recente. E quindi chi fa questa iniziativa è una scuola che in questo momento è in forte crescita. E nella provincia di Treviso, in generale, la formazione alberghiera è molto richiesta dall'utenza. E questo suggerisce una forte, cioè il riconoscimento anche da parte dell'utenza della forte vocazione, direi, all'ospitalità della nostra regione. E allora anche questo può collegarsi con l'idea di un festival sulla bellezza intesa in un determinato modo all'interno di una regione che ha una forte ospitalità, ha un forte senso dell'ospitalità sostenuta dalle scuole. Quindi è un'iniziativa veramente importante, a mio avviso. Poi, è l'ultima osservazione che voglio fare, lasciare la parola ai relatori che seguirò dalla platea molto attentamente. Ecco, leggendo qui un po' l'idea degli organizzatori, mi complimento oltre col dirigente scolastico, anche con lo staff di professori che ha lavorato sodo per mettere su questa iniziativa e con ottimi risultati. Ecco, l'idea della bellezza che viene fuori dal programma mi interessa molto perché mi pare di capire che qui la bellezza sarà in questi giorni affrontata e indagata non tanto, non particolarmente dal punto di vista dell'arte o dell'arte figurativa. Piuttosto, ecco, anche questo in senso classico, mi pare che la bellezza venga presentata immediatamente come un trascendentale, ecco. come un orizzonte, e voglio capire poi se è vero questo il modo in cui alla fine viene fuori, insomma, come un orizzonte della prassi umana che voglia innanzitutto riconciliarsi con la natura e poi che cerca di fare come una specie di trasposizione continua, vedo qui, in rapporto con il bene, con il benessere, il buon vivere, il gusto della vita, direi anche il gustoso, e però tenendo sempre presente il valore di verità di questo orizzonte. Quindi è molto interessante questo modo di declinare la bellezza e allora anche gli stereotipi, per cui quello che diceva prima del professor Lorenzo, ecco la storia dell'arte si deve studiare soltanto nei licei e invece nei professionali ci sono altre cose in gioco. Se si esce dagli stereotipi si vede che anche trascendentali importantissimi come la bellezza possono essere giocati anche un'istruzione diversa e magari in una maniera anche più originale e alla fine più significativa. Quindi vi auguro, ringraziando ancora Lorenzo per avermi coinvolto, vi auguro un buon lavoro. Bene, io ringrazio veramente il professor Corra, ringrazio di quello che ha detto perché ha centrato veramente lo spirito di questo incontro e diciamo le premesse e gli obiettivi che c'erano.